E subito l'applauso a questi runner apripista che si stanno facendo divertire, si divertono anche loro in questa giornata di sole e di cielo giurro per la prima prova del trofeo Lombardia ce ne saranno altre 5 dopo di questa e quindi tanti punti indispensabili da portarsi a casa mettere nelle tasche per poter poi giungere alla fine di tutte le prove da leader di tutta la Lombardia ed è tanta roba E guardate ragazzi come i disinvolti si apprestano già a chiudere la penultima linea e chi entra già nell'ultima e quindi anche lì applauso Attenzione Zucchi Albertos, Valetti Andrea, Rossini Stefano, Villa Massimiliano, Grauso Lorenzo e Minuti, Ludovico